Una crisi, storicamente noto, non rappresenta sempre e solo un momento negativo, ma piuttosto un momento di cambiamento. Un passaggio di stato che possa segnare tanto il passo della deriva quanto quello della svolta. Il calcio certamente non fa eccezione e normalmente la chiave per scardinare il cambiamento è scacciare via la crisi ed è rappresentato dalla vittoria. La speranza è che quella di sabato contro la Virtus Franca Villa possa essere il bivio giusto per far girare la stagione nel verso migliore. I segnali ci sono e restano confortanti ma c'è ancora molto su cui lavorare. La frattura con la curva sud al momento è ancora aperta ed evidente e potrà essere sanata solo dal tempo e forse dal confronto. La posizione di Braglia ad oggi è garantita dai tre punti conquistati in casa ma ovviamente quel che è successo nella scorsa settimana non si cancella con un colpo di spugna. Il tecnico farà un passo avanti aprendo le porte degli allenamenti, lo farà il martedì e servirà a ricucire anche in questo senso uno strappo con l'intero ambiente, certamente amplificato dall'emergenza pandemica. Quel che ha dimostrato la partita di sabato essenzialmente è che la squadra al completo gioca un altro calcio e in questo Braglia ha ragione. La presenza di Micoschi e di Gaudio ha ovviamente agevolato i movimenti del tecnico che però ha corso un rischio non da poco. Esporre i due ai 90 minuti lo avrà fatto stare con il fiato sospeso ma alla fine ha avuto ragione lui. La speranza è che presto si possa aggregare anche Canutei dando ulteriori alternative alla squadra. La panchina in contemporanea di Maniero e Aloy non è stata certamente casuale e potrebbe servire anche questa a stimolare la voglia dei due di mettersi in mostra. Le grandi manove di Braglia per rimettere in piedi il pugile ferito sono cominciate, in fondo però siamo solo alle prime riprese. I primi ganci sono andati a segno ed hanno fatto male ma il pugno è assestato sabato, li ha fatti uscire dalle corde. Ora bisognerà guadagnarsi il centro del ring, sentir suonare la campanella e ricominciare a lottare fino all'ultimo round.